Sei sorto? E' il domanda del telefono? Rispondi il telefono? Sì, rispondi il telefono. La domanda della serva, che come direbbe Totò serve sempre, è inequivocabile. Ma ce n'era davvero bisogno? La Francia progressista è capofila ancora una volta, oggi, nella dismissione della telefonia fissa a vantaggio della comunicazione via internet. Dal 15 novembre di quest'anno, oltre Alpe, si inizierà a smantellare i vecchi collegamenti in rame, quelli che erano rimasti ultimo baluardo di un'epoca che va dai telefoni bianchi a quegli apparecchi, oggi oramai un pezzo di poesia materiale, dove non si digitava, ma si facevano ruotare le dita su un cerchio previsto di numeri. Per i più anziani e i nostalgici c'è però una parziale rassicurazione. Avranno quattro anni di tempo per aggiornarsi e dotarsi di un box adatto alla trasmissione via web, il vero guru cui tutto si sacrifica in quest'epoca superficiale e arruffona, come mai nella storia umana. E l'Italia? Cosa succederà da noi? La telecom pare ci stia pensando e avviando una sperimentazione. I costi inferiori sarebbero la ragione principale per giustificare questo passaggio. La realtà è che a partire dai primi cellulari ad oggi, la telefonia mobile è il settore più capace di sposare i lustrini dell'innovazione alla creazione di bisogni che vengono poi spacciati per necessità. L'importante è continuare ad alimentare questo mercato affamato di compratori che non può vivere senza inventarne di nuovi. E la nostra serva? Beh, può continuare in vano a fare domande cui nessuno risponderà. Capire è meno importante che pagare. Come? No, no, ha sbagliato numero, sa? Noi telefono non ne abbiamo!